amici del canale ben ritrovati niente purtroppo ormai sono un po di settimane che persiste questo maltempo questo questo tempo uggioso ma noi non ce ne frega niente facciamo qualche lancio e vediamo che succede mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale grandi ciao allora rashad testina piombata da 5 grammi no 7 grammi colorazione rosa vai ora dunque vediamo un po riproviamo con questo che un'altra volta mi è piaciuto molto muove ancora bene la vernice sta benissimo proviamo ora passiamo sempre a uno shad bianco scendato testina piombata 5 grammi questo qualche movimento qui davanti andiamo con questo drink 150 non si sa mai siccome ho visto qualche cacciata qui a inizio inizio foce nel fiume ho detto guarda un po vediamo un po che non si sa mai che non si sa mai quest'anno la foce si è allargata è veramente bella come non si sa mai magari qualche spigola in agguato anche se la maggior parte qui ci sono tanti cermali grazie a tutti Allora, amici carissimi, stasera abbiamo provato molto con qualche gomma, con esche un po' più piccole, pescato con la Labrax Aire della Sispin, poi in ultimo sono entrato in zona foce, così giusto per fare qualche lancio, qualche spicola magari non si sa mai, quest'anno la foce è molto cambiata, che dire, comunque molto rilassante, speriamo meglio nella prossima e come dico sempre, mai mollare. Ciao ragazzi!